Buongiorno signori, io sono Mr. Lul e oggi come non parlare di pensioni. Infatti non solo poste ha pubblicato i calendari ufficiali di febbraio, ma a breve saranno disponibili anche i cedolini fondamentali da controllare questo mese perché... beh, perché ve lo spiego subito. Sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con campanellina per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! E partiamo con una buona notizia. I pignoramenti su pensioni e stipendi sono congelati fino al 31 gennaio e con il Ristori 5 in arrivo entro fine del mese questa sospensione sarà prolungata ulteriormente. Ricordo poi che proprio oggi sarà approvato il nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro e successivamente si aprirà appunto la strada al decreto finale forse di questa saga dei Ristori. A breve poi il cedolino delle pensioni di febbraio 2021 dovrebbe essere online disponibile così da poter controllare il dettaglio della busta. Importante da verificare sempre ma soprattutto a febbraio perché come comunicato dall'Istituto continuano e continueranno le operazioni di conguaglio fiscale e alcuni si troveranno con debiti o crediti e anche con un piccolo sconto di addizionale per un errore commesso dall'Inps nel primo cedolino dell'anno. Per visionare la busta basta accedere sul portale istituzionale e cercare nella barra di ricerca in alto cedolino pensione e successivamente cliccare su verifica pagamenti. Se invece volete controllare solo l'importo questo è visibile e disponibile nel fascicolo previdenziale del cittadino sezione pagamenti. E infine come potete vedere sono usciti finalmente anche i calendari ufficiali di post che confermano la tornazione prevista già dall'Inps. Li lascio per un po' in sovrimpressione così potete prendere nota. E detto questo io come al solito vi saluto vi ringrazio ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale iscrivetevi con campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi aggiornamenti. Insomma un saluto a tutti grazie mille alla prossima da Mr. Lul.